Si convoca Palazzo Chigi, capigruppo dei partiti per affrontare la minaccia del terrorismo dopo la strage di Nizza, ma la ricerca di unità chiesta dal governo cade parzialmente nel vuoto. La Lega non si presenta e parla di passerella del Premier. Il tema della sicurezza viene legato spesso a torto a quello dell'immigrazione allo studio del Ministero dell'Interno. Ci sarebbe un nuovo piano per affrontare l'emergenza migranti, che prevede una distribuzione più equilibrata con una media di due o tre per ogni mille abitanti. Via Libera inoltre ha nuove assunzioni comunali. Il giudizio adesso per quanto noi sappiamo è positivo perché le difficoltà che si stanno affrontando sono sotto gli occhi di tutti. Molti comuni stanno affrontando sforzi che altrove invece non vengono affrontati. C'è necessità di ridistribuire il carico delle persone che arrivano, quindi dare la possibilità di ottenere sgravi per chi si impegna realmente sul fronte dell'accoglienza è un modo per raggiungere questo obiettivo.